Oggi sono qui perché c'è una riunione convocata tra il governatore Oliverio e i sindaci dell'Alto Terreno Consentino per discutere insieme della situazione dell'ospedale civile di Praia a Mare. Avevo loro promesso a tutti una vigilanza a nome della gente, di tutta la gente dell'Alto Terreno, avevo promesso una vigilanza stretta e continua, marcatura d'uomo, siccome sono piuttosto un arbusto nonostante lo sciopero della fame, sarà una marcatura di quelle strette e pericolose. Per cui mi attento da questa riunione, io sono qui in sala d'aspetto, mi aspetto delle proposte di soluzione. Ove ciò non fosse fatto, dopo questa riunione proporò la promessa querela nei confronti del sindaco di Praia di Mare e nei confronti del governatore della regione. Mi aspetto da loro una manifestazione di buona volontà, in modo che meno i cittadini possono cominciare a sperare.